E' buona la prima di Aragolassa che vince uno scontro diretto e delicato e porta il Crema 1908 un po' più lontano dalla zona play-out. Contro il Real forte Querceta cambia il mister ma non cambia la sensazione che Recino resti punto fermo in attacco. E' sua la prima azione personale del match. Ancora il Crema, ancora Recino, il gol arriva ma l'arbitro, questa volta con colpevole ritardo, fischia fuori gioco e annulla. Il Crema fa la partita, i Toscani ci provano da fuori con il tentativo di Fazzi, Aiolfi, Para. A rendersi pericolose poi l'asse Giubbolini-Pegollo, in qualche modo la difesa sbroglia prima di combinare guai. Dall'altra parte Recino schiaccia troppo il tentativo sfiorando soltanto il palo da ottima posizione. E' buona poi la volontà di Bartolini che però difetta di precisione dai 30 metri dove non era facile. Riprese, Real forte, prova ad affondare a sinistra con Giubbolini, di contro l'Ovaglio ha spazio al limite ma alza troppo la mira. A settantatresimo il gol che sblocca tutto, a fondo prepotente di Groppelli a sinistra che non trova alcun difensore a sbarargli a strada e cross basso dietro per Madiotto che da poco entrato fa 1-0. Il Crema chiede rigore subito dopo per questo fallo in area ma la squadra di casa ha comunque la forza di chiuderla senza perdersi in proteste. A segnare, manco a dirlo, è Giorgio Recino dopo un'azione maradoniana in accentramento dalla fascia sinistra evidentemente benedetta domenica per il Crema. L'ultima palla gol con pallonetto del Toscano verde salvato sulla linea sarebbe stata comunque invalidata per fuorigioco.